e vabbè niente come avete reso il titolo faremo scudo con Mattia che c'è quasi sempre e un nuovo arrivato si può dire quindi che si chiama beh di dove? puoi chiamarmi Sir? potete chiamami eh si ma come ti chiami nella vita reale? no non dire il mio vero nome è solo Marco Marco chiamatelo Sir e vabbè ho già una persona ma chi sei te? sei te vero? sei te? sei te in live? nella live aspettate ragazzo è perfetto perché mi è venuta con la copertina? mi saluti sei te vero? ma chi le fa casino con le buce? oh ce la fai e ce la rende il mio nome bro aspettate basta far casino Sir? non sono io e chi è? carlo sei te? si sono io no raga tre persone devo chiudere la live è meglio no? ecco io no tu tra un po' la seguo anch'io la live carlo vabbè ci sono anch'io metto like e sono anche erano raccomando raga lasciate like attivi tra capelli per fare presenta per un altro mio video buon raga lasciate like attivi tra capelli tra capelli e per fare presenta il mio video abbasso le buone qua a 2 che casino no raga c'è un casino brù cosa succede? c'è in alto a sinistra è una cosa? eh sì lo so significa che raga mi devo cambiare le cuffie Non mi si carica Aspettate che devo leggere commenti Ma non mi si carica Mi leggo io Per leggere sta cazzata Mi hai fatto aspettare tre anni Bella fra Ragazzi mio fratello che vi sto seguendo Dal tablet Davvero? Iscrivimi saluti Bella fra Il mio fratello Che fa anche lui video sul tubo Ma cosa è vero? Ma lascia stare solo per divertirsi E tanto Non vedo nessuno Bene Nel frattempo c'è mia sorella che si sgola Perché sta ridendo con la sua compagna Stava facendo la verifica Che ha chiesto le soluzioni Alla prof La prof gli ha detto tutta la verifica Lei è caduta Che ne sta Morrendo da ridere Ma tralasciando questo raga Ciao Ah intendi ciao Bomber si In 19 Si E ho due kill Solo due kill E basta La mia voce sclauso Ma la mia raga lo sapete che la mia voce è molto più da master nella vita reale Vabbè perché? Cioè non sembra da combina E così fidati Non ho ancora imparato a dare sta palla raga No Vabbè ma tu non dovresti essere a calcio Vabbè ti chiedo E come faccio? Ma lo sai che mi sono raccogliere? Non l'hai mai detto E l'ho tanto Ho tanto il gesso da tipo 6 Ho 4 giorni Non ho scattato Nella live raga Non parliamo di questo in live Ma bro che sono sti 42 iscritti? Anche persone che non conosci Ma guarda che anche il record non parla della sua vita Ho capito però E l'ho tanto si nominano altri youtuber Vabbè Ma che? Ma lascia stare bomber dai Nel senso Aspettate Ok ma allora Carlo è morto Sì Appena adesso Vabbè oh prima Raga Cioè Nella partita del giorno Ho fatto pure una missione Due Schermo Ah dai dai Carina No Dai Non mi si creda Raga tutti nella lobby di bomber Andiamo nella Dai Dai Raga facciamo Squad Sì dai squadra Sì Sai cosa devi fare per farne visual? Ma chiudimi la porta Cosa? Truffare Devi truffare Ci sono al mondo Lei mi ha insegnato a truffare su salva Ma non lo sapete No 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 ti conosco un altro metodo Te mi segno dopo Ok Ok Ma sei ancora nel caricamento Carlo? Io ma no la live va indietro Ok Aspettate Spiega Raga ma sapete Xyunder Bella Fra Sì Guardi Xyunder Sì Non nominare No Vabbè Sì vabbè Sì vabbè Ma voi Aspettate Aspettate Schifoso Franci ma voi Alla fine Andate sul 25 Sono molto bella Comunque sapete quel ciccione schifoso? Fa spunti Si vanta perché Ha 260 punti Li fa Tutti camperando con la palla Non si dissano altri youtuber Ma sì anche se lo disse Perché noi franci Molto probabilmente andiamo su Mio papà No aspetta 5 live grandi Sono Loris Bella se tu vuoi venire E ragazzi iscrivetevi al canale di AeroBrain Quello che ha scritto in chat L'ultimo Loris Perché è un mio compagno di calcio E fai vedere anche lui Quando siamo in live Io sono in live Io per leggere i commenti Siamo io e Carlo Il parco è privato Il parco è privato No Metto subito No mettilo tessere No no mettetelo privato Perché? Deve entrare un mio amico Senza Alla voce Alla voce Antipattica Cioè come fai a capire Su un antipatico Dalla voce Io largo Cioè vabbè Ok Ma fermi che mio amico Quello che ha scritto in chat E aspetta L'acca 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 E aspetta L'acca 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 E aspettate Tieni bro A cosa? No bomber è un bomber No sei morto Allora Eh esatto Iscrivetevi Al canale di Aerobrain Bomber vieni Oppure Oppure Sì sì Aerobrain 08 123 Bella Aerobrain Sto parlando Perfumo Bella Stai urli Esco Ehi Buongiorno Buongiorno Solo perché ti chiami Aerobrain Me l'accetto Sì Ma come è commentato da me 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 Ehi Ehm 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 Un cattivo bombino Se non si iscrivono mi arrabbio Bravo Ehm Non lo so cosa faccio Però Ser Ehm Ser Vuoi un calcio Una deagle sir Ma guarda che io L'abbiamo lo stesso account Eh Mi posso scrivere io Vuoi un calcio Una deagle sir Oh già un diceco silenziato Tu vuoi una scindola? E ci sei fatto un ruoto Poi Ora usalo la deagle come mitraglietta Usalo la deagle come mitraglietta Sì Se non c'è una mitraglietta Eh ma usalo come deagle la mitraglietta Ma mi fa schifo Adesso io non c'è Ero già scarso Lo usavo solo perché sto cavo i nudi Ebbene un cuore esminato Allora faccio Ehm 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 Come amico di Epic Come amico di Epic Come amico di Epic Ehm Ehm Non te aloris intendo No No Non te aloris No 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 Ricorso solo un pompo col cavolo Cos'ha questo gioco preparato in foto Ma perché Carlo Gientra lori Oh è bomberia un rister Aha Ehm Avete mai fatto vittori in live? Sì No Sì Ma Ma Qualcuno ha scritto che siete grandi Non sono io tranquilli No 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 C'è me Siete che continuo Ma Ha solo di una scritta niente E tra scritto niente E tra scritto niente sulla play Tranquillo Ma è vero Ma perché dici tutte le mie Guarda visto che ti ho preso il pompa ti faccio anche le costruzioni per scendere dalla montagna Ma guarda che non so Non sono i canticappato Un pochino Non so così non sprechi i materiali Ma guarda che potremmo anche scendere senza mazza Mi iscrivo al tuo canale Ma ti facevi male bimbo Ma io mi iscrivo al tuo canale MacGyver 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 Si chiami così Carlo Oh guarda c'è un altro pompa Lo chiamiamo Carlo con pompa Sì bene bene Del mondo Sì ha la faccia da Carlo guarda Lascia lasciami con La brucia di Vini a calcio con me Non sai mio nome Non c'è un bato in corno Attenzione Carlo E' per avere un iscritto in live Grazie Iscritto in live Attenzione Chi è? Dobbiamo arrivare No lo senti Perché c'è la sei È vero Oh pompo di un pompo leggendario Che rimbombo Sento la mia voce parla Vabbè non guardo se la vostra live Ecco Senti la voce di imbombare Allora andiamo Dai Carlo ha abbandonato No Mi sta guardando Ma carlo mi sta guardando sto guardando me la da studio anche pure e bomba il mio prende il giallo ha aggiunto un arco veramente forti aggiungere andete in giro non è in fretta per favore guarda dai non me lo tiro madonna sembra che tu c'è della ma che ci arrivavamo con venti di vita sicuro ma fa ancora la live più pinnacoli guarda ancora affettare stanno c'è bro quanta gente c'ha pinna no non andiamo a pinna c'è una serie dalla montagna oppure siamo qui stiamo qua vuoi vedere che muoiono dalla se muorono morite muo rete muoio domani non riesco a farla live perché vado in gita sarò stanco morto più dopo devo andare a calcio quindi ancora più morto andiamo in gita e probabilmente sarò più morto per stanco è un calciatore io penso che guarda mi guarda mia bella ciggi ma siamo scasso questo c'è un vichingo scolto ma cosa io quello che lato 1 buona ma via che da pizze ci avevo voglia era lì e aveva pure una costruzione allora hai fatto bene ho ammazzato uno bravo era il calciatore non era poi così forte c'è sicuro vengono a dare che da a me sembra gente cattiva quella ma si ma che si ma hai materiale almeno eh pochi prendiamo il calciatore del calciatore guarda altro che ti do tutto allora aspetta no 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 dopo ti do tutto eh eh voglio tutto legno e ti ti do tutto esatto raga tutti con hashtag e anche colpi pompa e mitra aspettatevi che entra peli muto perché non posso dire questa roba tutti con hashtag forza realza massimo aspettate e hashtag forza real forza real ma qui c'è nata sia o nel montagno ci fisciano? ah bro l'hashtag è tutto attaccato ma porco due guarda 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 guard una notte nato bro ma anch'io che sono smirato e potevo far niente sto gli ammirare no la staglione ma ci sei entra loro e che ho messo in lobby la stagione ha fatto like metti il parto privato perché stai mangiando potevi dirlo crava non sto mandando una patatina assaggiato che non siete subito corti la gambe tanto di questi giocatori a 4 non serve ancora la line di a tuo fratello che è un cretino raga il mio armadillo ero brain hai una scelta secondo te è una scelta per due giorni ciò col passa ma non ti conviene ciò non mi interessa ma a mio fratello lo intendevo il fratello di labbra questo non è che il mio passo non è che il migliore una sfida tutti a pinnacoli no e vedete se andiamo a pinnacoli almeno tutti nemmeno nella stessa casa la centrale quella la bella ma che centrale fatti iscritti la fa andare a pinnacoli fate scritto ci massacrano poi vogliono gli iscritti franzi metti in live mi raccomando iscrivete in live chi vuole essere iscritto si fa non è vero fatto iscritto ma ne vanno addio ciao nell'angolino piangere lori se ci stai facendo iscritti grazie alla mia live chi sono bene godo e vabbè dopo guardo quanti ne avevo bagnati l'era la meraviglia scatti suelo brain se stasso norris quanto forbe quanto si è iscritto il tuo canale cosa morì uno servo che sono ancora iscritto rai perché vai poi far creare bruce ha fatto cadere una patatina o una tragedia centrale ma dopo leggo e dopo l'azzo basso un'arma no cari il rift lo preso io rischio a un rift raga se volete lo usiamo perché no è comodo questo nabo quindi sicuro non nemmeno che non dico queste cose in live perché per far di scritto ma c'è un tipo è un nome avete un anno e non solo una cosa non posso darti niente c'è un cavolo dall'anfresi c'è un cavolo da te c'è un tipo da te danno o una banale di cucario aveva colpi miei che da pochissimi raga l'ho fatto due trentasei no io non ho l'assalto avete colpi mitraglietta per me da pochissimi io non ho l'altro tipo aspetta ricardo colpi mitraglietta next ho con te io 72 e ciotto non dal fianco raga morto uno ragazzi uno da me venite ma può togliere carlo non hai armi no raga carlo vedi da me anche un rift dai ecco io uso rift mi spiace no io io ho detto un sorriso voi no eccolo qua con successo non avevo neanche come ho detto no e lo so che non è che ce l'avevo non neanche ascoltato ho detto a un rift rift vabbè vediamo vediamo quanti scritti basta far casino si ora che devo spegnere ciao ne ho fatto va bene così no ma che patatona dai dai mettiamo qualcuno avete sentito alla fine vero eh si che patatona eh allora chi c'è un like di forte ragazzo livello 54 basta far casino ti metti leader si scusa si scusa allora aspettate aspettate raga no visto che siete in like ne approfitto un attimo e allora youtube non è non è un livello anche te ci siamo dai quanti sei 16 boh e non c'erano dal 6 ottobre 2018 il canale eh da un po' oh raga metti pronto ehm allora aspetta mi potresti fare sette livelli gg vabbè dovrei esserci eh ok ci sono andiamo ma che squadra facciamo tanto per saberi guardia io e Carlo contro bombe ma che? cosa dici? poi si su auld ecco i due contro di me cioè va bene va bene no va bene vabbè basta che vi fate la gesto voglio si non sono apoletario voglio sono io pium 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 allora ragazzi cerchiamo di arrivare a 50 iscritti perché mi è cresciata la live l'avevi avviata si è cresciata quanto che è durata un secondo 30 secondi adesso oggi per me sì che bello ma le cose le armi della vostra test facciamo due partita allora mi chiamino allora non fai quello poi anche il lanciarazzi si va bene le armi spammose ecco beh bello cosa vuol dire armi spammose mi spieghi del verbo famosare che non esiste al momento no guarda leo cosa ha creato qua leo di calcio però cosa ha creato che mi aiuta a distruggere tutti questi lama io no chi chi ha finito di fare accesso io tra un po come io ok io finito di famiglia non mi fa bizzare il problema di fabbida o lea legare non lei cambio squadra io ho detto cambio squadra io io tra un po io sto procreare crea forciere non vengono che non vengono perché ma che crea ne uno perché poi è altra cosa sai cosa succede però si è creato 1 si ok posso avviare mi aspetta come va bene va bene niente va bene come hai diventato il trappole perché c'era un po è infatti è per quello che ho detto non avviate dimenticato la grappola si grazie 125 va bene grazie da meno un po non bene armi che belle anche raga scusate ma qua c'è il mio cane che sembra un demone cos'è un demone ho detto che stanno andando si si riscuota mille da mille trappole tre da un po anche a te ma ci sono i pochi grazie e si vanno bene vanno bene io ne ho sentito credo una cane aspetta hai un'arma non me lo so che mattia io l'ho 400 aspetta io sei un'arma che io non ho preso vogliamo spero di sì se devo prendere il protection rispondere il protection se riesco a mira magari prendilo o le alle lui con il tattico con il silenzio sacco io uso solo il tattico perché sono più forte che scritto e sotto la 38 mi sto sistemando loot c'è ammazzatevi però aspettato ok ci sono uso la legna va perché e noi ho pensato il chi è capata cecchino aspetta vuole prendere anche un po non ci provare a matese qualche che va ma perché ho fatto il muro lo fare piano e riguarda di sa cosa fare si manciottano le strutture come mi ha atterrato da quando mai si potrebbe la gente quando da quanto tempo si può fare sta roba bomber arrivo a si vedi che arrivo vediamo che arrivo vediamo che arrivo vediamo che arrivo e cosa metti le trappole vieni qua che ti curo ma c'è carlo perché mi si era bagato tutto mi hai tirato almeno qualche hit si ho 188 non ci credo che ti ho mancato a rifermo oh mio dio l'ho chiuso con la nuova pistola dai me ne rubi labgo con senza di ping ne volete parlare mi hai fatto 60 e io te mi ne rubi col pompa tattico blu vedi che sono più bravo col pompa tattico e col pompa normale infatti devo cambiare un po' luce che ho arriva arriva il re dei cecchini arriva attenzione ma va il re dei cecchini è tornato attenzione attenzione a tutte attenzione nella in giro sapessi quanto è facile che devo non mi fregare la chi che ti distruggono ma come fregarle a chi era mia prima aveva 90 di vita ti rendi conto è un volo mattia mattia io la dio tra di quelle pistole ma io odio non fare il tempo quelle persone ti odio mi è rubato la chi si è un battato cattivo non si fa atterrato da te ma 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 scappo della trappola scappo grazie salvami vai pro vai pro vai pro vai pro vai pro ma tu puoi rigenerare troppo tardi vuoi farlo un po prima non sapevo che si poteva non fai cadere tutta adesso così e le trappole arriva di re delle trappole sta arrivando cosa cosa dai bro ma che cosa è successo perché lui con i cecchino ha spaccato la scala io voglio dare falso la scala dai quanta vita ai qualità i quanta qua qua non ci credo che ti lasciato un cd vita adesso non me la ruba no non te la ruba me la faccio e di qua non mi puoi spiegare la chi di di vento satana se mi rubi la chi di vento satana non te l'ho rubata gra grazie sai è stato carlo il cacchio sai che non ti vedo ha un problema eh se non ti vedo un problema è da me è da te la perché così quella pistola strana e vabbè poi e ammazza non ti prendo una volta vabbè sei white hai novanta di vita lo vanno adesso adesso me lo faccio io come sai cucciolo dov'è il mio cucciolo come cazzo sei ad un'altra parte per dover ancora di qua è è è è è no no stress mi resta vivi qua stress mi stress mi hai già stressato bocca eh tante da che fa in tempo da che fa in tempo yes eh vabbè c'è arciar basso dai no ma ti ho fatto veramente 10 c'è col pompa la prima è il tutto fatto 10 adesso è tutta vita ma non vale sparare quelli in volo non vale io andavo a per la parata scusa quanto lo sai no no avevo poca vita fidati la voce non mi cosa io accetto mi sto arrabbiando mi sto arrabbiando no no ragazzi e spellete lo questo marocchino si adesso e ma poverino sto gnoccon' no no dai e sbagliare sto marchino metti parti privato per favore si vengono il mio cuore di or marocco sbagliato metti parti privato hai un altro deserto per me per favore no hai un altro desert vabbè ma chi ha attraversato un muro noia una cosa è un'altra prossimità di 90 che posso darla senza me la bianna desert per favore non dargli il p90 e un picco il p90 ma allora io sono quella desert capito io la desert sono bravo ma ho detto dai non voglio fare l'infame invece visto visto che continua a morire faccio l'infame perché non si può di quella cacca vacca una di valore la mente 90 adesso quello deve esserci siete morti tutti no per debito ma no caro ok non so tanto no soltanto piccolo desert ok ho sbagliato di sono armistano ho sbagliato pistola non è la bella non ci avevo visto ti confondi con le costruzioni si fa che troppo nero è cosa scusa nero 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 e leone party brutto nero si no non aspetti vuoi guidare forte team no forte team vi prego raga se ti voglio morto capito è capito lasciate capire un secondo devo invitarlo ma te anche suggerisco il giocatore ma non è vero ma se calciate poi una paperata e lui ti dice dai forza continuo così come stai scherzando spero che lui mi dica così ho sbaglio qualcosa con lini di c'è mi dice su fino che io che non muoio non muoio ma se ma loro sono cuglione che non ho mira oggi sono alla prima partita del giorno la prima creativa del giorno allora non sono tanto sotto cosa ha capito scusa se una creativa dura otto ore sei come la prima creativa ciao ciao zio vido facendo una live anche io sono impesso si muove basta forza perché non mi alzo alzati no 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 sono un pro con un pro sono un pro sono un pro e con la portadella e si infatti sono un pro sono un brozzo non sei white carlo ma che è ma ti ho aiutato col cieco attenzione ragazzi arriva l'infame adesso eh carlo ho detto io che arriva l'infame si è entrata da bravo c'è più bravo con cecchino ho fatto ho fatto un iscritto a e a loris a 1 grazie wow o lenz in quel live 1 se è iscritto sono uno è perché c'era solo un infatti questo l'ho missata un botto 33 ok ho pochissima vita non sto capendo niente cosa c'è che telecamera è perché sto facendo una live dove sei ma volevo venire da tesi ma hai cambiato l'ha detto che c'era un commento in realtà non c'è scritto nessun commento mi ha detto che uno ha commentato in realtà non ha commentato nessuno boh va bene ecco 29 commenti e nessuno ha scritto perfetto ma c'è ma 31 aspettate un secondo che qua è tutto buggato quante volte mi ha scritto bella stefano c'era scritto due quattro cinque volte boh sto per cadere mettiamo quella della play scusa ho fatto scala piano muro per la prima volta attenzione attenzione ho fatto scala però un buro e mi sono bloccato e mi sono bloccato scala piano muro per la prima volta ho un problema serio ma dai il gioco di cacca riesco a far scala piano muro un problema mio se ne vedete da e mi blocco ma fa raga oggi non so puntare non dirlo a me no non so puntare oggi o o raga non riesco a bidà 0 un bravo di brucia matti ecco quanto godo invitate leo che sarò sto come spamba la 20 quanto godo l'aspetto è sia bello 225 è per darti l'idea di quanto sono bravo col cecchino darti l'idea adesso tutto per darti l'idea ancora no caro lo ammazziamo a prescindere la foto 225 chiediamo la partita che entra anche leo perfetto abbandonato ma si è entrato ciao siamo in live si sono facendo ma va carlo hai notato mattia no di no ah no sì perché leo alla voce bassa e quindi non riuscivo a sentirlo sono dimenticato di noi mi ammazzate ragazzi mi sto facendo una roba non mi ammazzate ma avete già inviato la partita si quando è che fate spod domani ciao quando vuoi beh mattia adesso dove la big battle che la voglio vedere è qua eccovi io mi blocco in continuazione il nostro caduto quanto volo vabbè non sei a terra carica ora hai aspettato un secondo se non mi sentite e sperando cosa ti ha fatto vedere la riva c'è chi nato non so per questo nome ma un po' da vacuna ma come un po' da vacuna ma come un po' da vacuna pochissima ma ti ha però ti ho fatto 3 e 22 e anche io non è che ti faccio vedere orco vaffone ciao ma porca vacuna eeeh nooo non ti vedevo porca vacuna eeeh mattarella vieni per piacere dove sei l'ho lasciato tutto a wild hit wild hit oh finalmente gli ho tirato delle belle morte eeeh troppo è schifo ma 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 visto che c'era lui in mezzo la piramide è diventata gialla bella bella la balesta esplosiva che uscirà non so quando eeeh eeeh bro ma porca perchè no effetto è esplosiva no boh ingrativo non c'è si arco esplosivo e vabbè deve ancora uscire nel gioco adoro ma c'è un problema c'è un problema ma penso in testa quanto toglie no mattia che scurato che sei oh mio dio ma guarda che come le granate non è che c'è se lo prendi in testa gli fa di più le granate hai 130 punti tu se no non mettetevi in testa che fate il torneo no no me li tolgo e basta carlo bene mi tolgo sulle fai in più volevo prenderlo riso preso te ok oh mio dio 22 kg che robina quando è che fate scuola quanta vita adesso non mi contavi trai c'è la voglio fare con te dove accadì porca vacuna di ballone peggio di rome ho rotto uno stendino perché mi ha rincazzato come hai fatto per sbaglio per sbaglio per sbaglio per sbaglio perché usiste armi non ti prendo una volta ma è possibile ma eri dietro il pavimento ma come hai preso eh ma ho modificato cretile ma non è vero sei una crappa lo so mi so ma anche tu ma che hai visto che io dove sei per me in teoria sei guai ma che è guai ma domani sono guai ma dove sei l'amico ma dove sei l'amico ma dove sei l'amico ma tutti dietro ma che rabbi nooo volevo andare a fare team e son caduto cosa volevi fare volevo fare team però mi so per buttare nel mare per togliermi i punti in più oh non vale tuttori dai ma ti ha che bestemmia in live ok ci esusta ma io manco lo sentito ma hai detto di host chi ridillo matti che mongoloide mi invitate nella vostra creativa un attimo voglio uccider per l'ultima volta cani i cani i cani i cani adesso ti adesso andiamo a far fare me lo pianto no è whiteissimo 110 e 58 gli ho fatto dai vieni che ho fatto 110 e 58 dai gli ho fatto 110 e 58 mi inviti calo ok signora ha anche bestemmiato questo scema dove l'ho riso dai adesso facciamo scuocciando facciamo scuocciando facciamo scuocciando ve lo fare io ho tuttato il primo qua arriva 40 kill no no io ho tuttato dai faccio scuocciando non so dove è la stella vabbè raga niente niente c'è non so che dirvi bro 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 niente raga se vi è piaciuto il video lasciare il live lasciato un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale di aerobrand in aspetto di maverick per supportarci tutti e tre perché siamo tutti e tre amici amici e niente e niente e soprattutto la campanellina per giusto carlo zitto bella raga e ricordatevi di non bestemmiare mai di non bestemmiare mai non 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 Grazie a tutti.